Ecco, mi sono Giuseppe Carrus di Cagliari, Cagliaritano, anche se da alcuni anni mancavo dalla città. Questo per me è un po' forse quello che posso definire il mio omaggio a questa città. Fondamentalmente nasce da una grande passione che mi ha portato a lavorare all'interno del settore della gastronomia. Lavoro da diversi anni al Gambro Rosso Editore e raccogliendo questa mia passione ho deciso di dedicare un po' tutto a questa attività qua. Complice ovviamente di questo c'è la mia compagna di attività ma soprattutto di vita. Lei non è cagliaritana, è romana ma forse addirittura più cagliaritana di me perché ha deciso di abbandonare Roma e che conosce i romani e sa cosa significa, cosa possa significare abbandonare una città come Roma perché ha detto io voglio aprire questa attività ma la voglio aprire assolutamente a Cagliari. Ciao, sono Alessandra e come ha detto il mio marito, sono ormai cagliaritana e ho deciso di intraprendere questa avventura perché sono appassionata a questo mondo, vengo da questo mondo e ho voluto creare una cosa anche un po' diversa in questa città che mi ha subito colpito dal primo momento. Ovviamente la scelta dei prodotti che voi potete vedere è tutta frutto di varie esperienze, di vari test che abbiamo già fatto in questi anni e su dei prodotti anche io amo moltissimo come la dispensa di Amerigo che è un'azienda romagnola di Savigno dove ha dei prodotti fantastici che noi poi li proponiamo nei nostri piatti. Il nostro menù infatti è un menù che si basa su piccoli piatti, diciamo espressamente, cioè diversi piatti che noi proponiamo e ogni giorno nel menù dove comunque mettiamo uno dei nostri prodotti che abbiamo nella dispensa come le salse di Amerigo che proponiamo nei panini, oppure usiamo anche se uno vuole prendere un caffè per mettere un buonissimo miele, abbiamo questi mielli thun che sono straordinari oppure anche usarli come composte in un piatto di formaggi. Questo è il mio mondo e spero che mi piaccia. Il progetto nasce nelle nostre teste tanti anni fa nel 2010 e da quella data, era ottobre il 2010, me lo ricordo ancora, eravamo io e mia moglie in viaggio a New York, abbiamo iniziato a scrivere, 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 abbiamo scritto tutto, abbiamo scritto un prodotto che ci piaceva, un particolare che ci emozionava, addirittura un infisso che magari avremmo detto questo se avessimo mai un locale di questo tipo ci sarà questo infisso. E da lì piano piano le idee, siamo andati a trovare tutti i produttori che qui vedete in vendita, li conosciamo personalmente, una cernita lunghissima, tre anni in tutto e sempre un'idea chiara, tutto doveva nascere da una cucina centrale, che è esattamente questa qua. Il marchio Cucina.it ha il nome Cucina inserito all'interno di un rettangolo un po' smussato. Qual è la nostra cucina? All'esterno della cucina c'è tutto il resto, quindi c'è un balcone perché per me è importantissimo che tutto venga messo all'esterno e quindi in un bancone. E poi c'è l'esposizione, quindi cucina, bancone per poter guardare tutto e l'esposizione. La cosa più bella per noi è che ognuno possa magari venire qui e portarsi uno dei prodotti nella propria cucina oppure ancora meglio uno possa comprare uno dei prodotti che sono qui e consumarli in questa cucina, consumarli e godere della convivialità insieme a noi.